Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro col video. Nel caso di oggi incontreremo tre protagonisti principali, ovvero Litz, Dave e Carrie, che cominciamo a delineare partendo dalla prima. Shanna Elizabeth Golia, detta Litz, nasce il 28 giugno del 1975. Cresce a Kalamazoo in Michigan, dove vive con i suoi genitori e suo fratello minore George. L'infanzia di Litz non scorre nella serenità, suo padre è un alcolizzato violento nei confronti della madre e della figlia, le p***a come se fosse un'attività di routine. Prima di incontrare la madre di Litz, l'uomo era stato tre anni in prigione per aver commesso atti osceni e vergognosi verso un bambino. La mamma di Litz, D, viene invece descritta come una donna gentile, ingannata da un uomo che si è rappresentato come una persona diversa, ma che poi si è rivelato un alcolizzato, un manesco, un manipolatore. Prima che Litz nascesse, sua madre D aveva già avuto due figli, frutto di una relazione precedente, ma siccome i gravi abusi domestici esercitati dal compagno erano all'ordine del giorno, i bambini li erano stati portati via. Ciò nonostante D non era riuscita a lasciare quell'uomo, anzi, con lui aveva messo al mondo Litz e George. Quando gli abusi in casa peggiorano ancora, anche Litz e George vengono sottratti da questo ambiente malsano e dati in affidamento. Ora D ha rinunciato a ben quattro figli, lei li ama e non ce la fa più a sopportare questa situazione. Così, finalmente, trova la forza di lasciare il compagno. A seguito di questa scelta, le autorità concordano che i quattro figli possono ricongiungersi a lei e D ne è tanto entusiasta. È la primavera del 1978, la donna sta sistemando casa per riaccogliere i ragazzini, poi si recchia in una lavanderia a gettoni per lavare le lenzuola. Vuole che i loro letti siano lindi e profumati. Ma, ahimè, tutti i suoi buoni propositi sono destinati a infrangersi. Mentre cammina sul marciapiede, D viene investita da un'automobile e resta vittima dell'incidente. Dopo la morte della loro mamma, Litz, che adesso ha tre anni, e suo fratello minore George vengono presi in carico dal sistema di affidamento americano. Litz cambia famiglia affidataria più volte perché subisce dei maltrattamenti fino a quando all'età di cinque anni entra nel nucleo dei Golia. La bambina trascorre il resto della sua infanzia con questa nuova famiglia dove si trova bene e vive una vita piuttosto agiata. Non perfetta, ma agiata. Il tempo scorre. Nel 1997, Litz ha 22 anni e già un matrimonio è finito alle spalle. È divorziata e inizia una relazione con un uomo di nome Raymond. La famiglia di Raymond, però, non la sopporta. La considera fredda, manipolatrice, estremamente possessiva e controllante. E non hanno torto perché Litz si appiccica a Raymond come miele tra le dita. Non lo perde mai di vista. Non gli permette di parlare e di vedere altre persone. In poco tempo Raymond arriva al limite della sopportazione e vuole chiudere i rapporti con Litz, ma lei è rimasta incinta, quindi lui decide di darle una seconda possibilità. Insomma, Raymond vuole essere un buon padre, provvede a tutte le esigenze del nascituro. Invece Litz, che era tanto ossessiva con lui, mentre in dolce attesa incontra un altro ragazzo e subito ci si mette insieme. Lui si chiama Glenn, ha 21 anni e in poco tempo accetta la proposta di Litz di andare a vivere con lei. Quando Raymond lo viene a sapere, chiede a Litz cosa stia succedendo e gli risponde che Glenn è il suo nuovo coinquilino. Raymond, che non è mica scemo, intuisce che c'è qualcosa di più tra i due, ma sopporta il tradimento perché Litz ha nel grembo suo figlio. Lei, dal canto suo, sta insieme a tutti e due. Quando Litz partorisce il piccolo Cody, è Glenn, il suo fidanzato, e non Raymond, il padre del bambino, che viene incaricato di accudire il neonato. Alla famiglia di Glenn, esattamente come quella di Raymond, Litz non piace affatto. I suoi genitori capiscono che la ragazza si sta approfittando del figlio, un giovane vulnerabile che ha difficoltà di apprendimento. Passa un po' di tempo, Cody ha circa cinque mesi e Glenn si prende ancora cura di lui, ma non vive più con Litz. È tornato ad abitare dai suoi genitori e si reca a casa di Litz tutti i giorni, ma soltanto per accudire il bambino. Un giorno Litz vuole uscire di casa prima del solito, chiama Glenn e gli chiede di arrivare al più presto. Lui la consente, ma le spiega che dovrà assentarsi per un paio d'ore a metà mattinata, allora lei gli promette che tornerà a casa per tempo. Glenn quella mattina nota che Cody è molto agitato, piange parecchio rispetto agli altri giorni, ma dopo qualche tentativo pare che sia riuscito a calmarlo. Litz invece non rincasa in tempo come promesso e Glenn, che deve andare via, racconta tutto a sua mamma. La donna allora va a casa di Litz per controllare che sia tutto a posto, ma si accorge che Cody non sta respirando. Il bimbo viene subito portato in ospedale, ma ahimè i medici non possono fare altro che dichiarare il suo decesso. Si stabilisce che la causa della sua morte è la sindrome del bambino scosso, una grave forma di maltrattamento fisico che si verifica quando il neonato viene sbattuto violentemente come reazione al suo pianto inconsolabile. La polizia preleva Glenn, perché è l'ultimo a essersi preso cura del bambino. Lo porta in centrale e lo interroga in modo molto aggressivo. Gli agenti gli chiedono in continuazione se lui abbia scosso Cody e Glenn, che è addolorato per la sua morte, nega sempre. Piega che gioca spesso con il bimbo, che lo ha lanciato in aria e ripreso un paio di volte per farlo ridere, ma niente di più. Glenn, che come vi ricordo è un ragazzo vulnerabile, facilmente manipolabile, viene convinto dalla polizia di essere il responsabile della morte di Cody. Lo aveva ucciso e ora deve rilasciare una confessione in cui si dichiara colpevole. Glenn viene accusato di omicidio di secondo grado. Tutte, e dico tutte le persone che lo conoscono, sanno che non avrebbe mai fatto una cosa del genere. Dubitano invece di Liz. La mattina in cui Cody è venuto a mancare, Liz ammette di essere tornata per una breve visita a suo figlio, ma né Glenn né sua madre l'hanno vista, quindi è rientrata mentre non c'era nessuno in casa, eccetto il bimbo. Probabilmente, questo ovviamente è una teoria, Liz ha trovato Cody e lacrime e ha provato a calmarlo, ma ha perso la pazienza. E l'ha scosso, poi se n'è andata prima dell'arrivo della mamma di Glenn. Liz, cosa ancora più vergognosa, neanche si dimostra addolorata per la morte del proprio figlio. Infatti, al suo funerale viene vista ridere e scherzare. Mi chiedo come ci sia riuscita onestamente. Nel frattempo, Glenn è in carcere in attesa del processo, che avviene circa un anno dopo la morte di Cody. La testimone principale che si esprime contro Glenn è proprio Liz, che lo distrugge completamente e sventaglia delle lettere che i due si sarebbero scambiati durante l'anno in cui lui confesserebbe l'omicidio. Ma parliamo di queste lettere, perché pare che siano dei falsi. Glenn afferma di non aver mai scritto a Liz e tutti i parenti del ragazzo sono certi che lei abbia falsificato le lettere per farla franca, ma in realtà la ragazza aveva ucciso suo figlio. Ahimè, proprio queste lettere sono l'elemento principale che ha portato alla condanna di Glenn. La giuria le considera valide e assegna a Glenn una pena dagli 8 ai 25 anni di prigione. Dopo il processo, Liz si trasferisce a Omaha, in Nebraska. Qui lavora presso un famoso rivenditore di immobili e in un centro commerciale. Ma il suo ruolo specifico e la durata dell'impiego non sono noti in entrambi i casi. Ad ogni modo, in Nebraska, Liz conduce una vita scandita dalle feste. Se ubriaca, non si prende cura di se stessa, frequenta diversi uomini e presto, resta di nuovo incinta. Mette al mondo il suo secondo figlio, è di nuovo single, poi comincia una relazione stabile con un uomo di nome Dirk. Liz, infatuata di lui, rincomincia a essere ossessiva, appiccicosa e invadente, tuttavia la coppia dà la luce un figlio. Dopo la nascita del bambino, però, Dirk arriva al limite. Così, lascia Liz e inizia una relazione con una donna di nome Melissa. E Liz non la prende affatto bene, si trasforma in una stalker inquietante, però non perseguita Dirk. Bensì, la sua nuova fidanzata, Melissa, è così ossessionata da lei che la segue tutti i giorni, tutto il giorno, riesce a sapere tutto quello che fa, si apposta sotto il suo appartamento, le riga la macchina con le chiavi e, in qualche modo, riesce pure a ottenere il suo numero di telefono. Questo video è iniziato da dieci minuti e già inizia a essere inquietante, eh? Proseguiamo. Liz invia a Melissa delle foto esplicite di quando lei e Dirk stavano insieme. Le manda anche una scatola di biscotti che sia Melissa che Dirk sono convinti che Liz li abbia avvelenati, dunque le buttano. Ma le cose non fanno altro che peggiorare perché Liz imperterrita, prova a diventare Melissa. E non sto scherzando, ci prova davvero. Come? Compra dell'extension per capelli per assomigliarle, acquista la sua stessa automobile e inizia a studiare per diventare un tecnico farmaceutico, professione che Melissa esercita già. Ma la cosa più inquietante è che inizia a presentarsi a chi incontra come Melissa. E, ascoltate bene, questa situazione va avanti per ben cinque anni. Per cinque lunghi anni Liz perseguita i mole... sia Melissa che Dirk. I due intanto si sono anche sposati perché la loro relazione è stabile, si amano. Eppure finiscono col divorziare perché la situazione con Liz è talmente asfissiante che non riescono più ad andare d'accordo. A causa della persecutrice non possono vivere nemmeno due giorni consecutivi di serenità. Ma, appena la coppia divorzia, lo stalking e le mole... si interrompono come per magia. A questo punto arriviamo al 2012. Liz ha 37 anni e vive ancora a Omaha con i suoi due figli. È uscita con diversi uomini conosciuti grazie a vari siti web di incontri e attualmente sta frequentando un certo Garrett. In realtà la loro relazione va avanti tra alti e bassi da circa un paio d'anni. Ma ora hanno deciso di dedicarsi più seriamente alla loro storia senza uscire anche con altri. Almeno. Questa è la convinzione di Garrett. Liz invece non è tanto convinta di dargli l'esclusiva e proprio nel 2012 ricomincia a navigare sui siti di incontri. Vuole prendere appuntamento con altri uomini all'insaputa di Garrett. Liz si scrive a un sito chiamato Plenty of Fish e incontra il 35enne Dave Krupa. Dave lavora come meccanico e si è trasferito a Omaha recentemente dopo la fine di una relazione importante durata 12 anni con Amy Flora. I due hanno anche due figli. Nella relazione tra Dave e Amy c'erano sentimenti veri ma anche un problema. Amy voleva sposarsi, Dave no. E questo disaccordo ha portato alla rottura della loro relazione. È a questo punto che Dave si iscrive a vari siti di incontri. Così conosce Liz. Al loro primo appuntamento Dave le dice chiaro e tondo immediatamente che non cerca una relazione seria. Vuole solo divertirsi. Liz concorda, sostiene che non vuole impegnarsi. Le ultime parole famose. I due che apparentemente hanno le stesse idee cominciano a uscire spesso. Ma come al solito Liz diventa assillante. È ossessionata da Dave, vuole stare sempre con lui, gli si appiccica addosso come un adesivo. Dave però nel frattempo esce pure con altre donne e quando Liz lo scopre comincia a mettergli i bastoni tra le ruote. Si presenta a casa di Dave poco prima che lui esca per andare ad altri appuntamenti e lo seduce. Inoltre Liz è anche gelosa dell'ex di Dave, Amy, con cui è ovviamente in contatto e da cui si reca per vedere i propri figli. Ma Liz sembra non capirlo. Ogni volta gli chiede perché voda dalla sua ex e ogni volta Dave le risponde che vuole vedere i bambini. Lei lo accusa di mentire. Per Liz in realtà Dave vuole stare con Amy. Non può di certo far la fessa. Lei è furba. Non importa quante volte Dave le ripeta che non c'è più niente tra lui e la sua ex compagna. Chi vuole soltanto avere un buon rapporto con i figli? Liz non ci crede. Non importa neanche quante volte Dave le abbia detto che non vuole una relazione impegnativa. Liz finge di non sentirlo. Dave la esorta a trovare altri uomini da frequentare ma lei è ostinata e lui alla fine cede. Una sera Dave dice a Liz che è disposto a provare ad avere una relazione seria con lei. Accetta di vedere come va per un mese ma non di più. Tuttavia proprio durante il mese in questione Dave incontra un'altra donna di nome Carrie. Carrie ha 37 anni, è single, ha un figlio di 14 anni di nome Max, vive nella cittadina di Macedonia, nell'Iowa. Da ragazzina dimostra già di essere molto intelligente, poi dopo le superiori decide di studiare all'università del Kansas. Conseguita la laurea Carrie inizia una relazione con il padre di Max, ma ahimè questa storia non funziona e ben presto Carrie si ritrova a essere una mamma single. Carrie dedica al figlio la sua intera vita, lo adora follemente. Ma purtroppo deve affrontare diverse difficoltà attraversa periodi di forte depressione e le viene diagnosticato un disturbo bipolare. Carrie però ora sta meglio, assume le sue medicine con regolarità e finalmente ha tutto sotto controllo. Sente una donna felice, ama la sua vita da mamma single, ama suo figlio. Nel 2012 quando conosce Dave, Carrie sta svolgendo il lavoro dei suoi sogni, è una programmatrice informatica a Omaha, anche se lavora piuttosto lontana da casa sua, infatti deve percorrere circa un'ora di tragitto in auto ogni giorno tra andata e ritorno. Un giorno però si sveglia, sale in macchina e si rende conto che l'auto ha qualcosa che non va. Temendo di rimanere a piedi, si ferma e cerca qualcuno che possa dare un'occhiata alla vettura. È a questo punto che Carrie incontra Dave, che come vi ricordo fa il meccanico. Dave è reduce dalle frequentazioni con diverse donne, tutte conosciute online, mentre si imbatte in Carrie casualmente di persona. La trova affascinante, quindi si interessa immediatamente a lei. Più tardi, quello stesso giorno, Dave si rende conto che Carrie ha un account sul sito di incontri Plenty of Fish, quindi le chiede di uscire. Arriviamo al 29 ottobre 2012, quando Dave e Carrie escono per il loro primo appuntamento. Vanno a cena fuori, si divertono tantissimo, finché il telefono di Dave inizia a suonare di continuo. Sta ricevendo tantissimi messaggi. Secondo voi, chi è che importuna Dave? Chiaramente Liz. La donna gli dice che deve raggiungerlo immediatamente nel suo appartamento. Ha lasciato qualcosa lì e ne ha bisogno subito. Dave risponde che non è in casa e non può tornare all'istante. Quando lui, più tardi, porta Carrie nel proprio appartamento, dopo pochi minuti, qualcuno comincia a bussare insistentemente alla porta. Dave sa che l'ospite indesiderata è Liz. Va ad aprire e lei scoppia a piangere. Dice che non ce la fa a vederlo con un'altra donna. È davvero sconvolta. Carrie, assistendo a questa scena, pensa sia meglio andare e lasciare Dave a gestire l'imbarazzante situazione. Carrie, uscendo dall'appartamento, incrocia Liz nel corridoio. Ma le due non si parlano nemmeno. Dave a questo punto dice a Liz che non vuole avere più niente a che fare con lei. Desidera concentrarsi su Carrie perché le piace molto. Nelle due settimane successive Dave e Carrie si vedono spesso e si divertono un sacco insieme. Carrie inizia a far visita a Dave tutti i giorni dopo il lavoro, recandosi nel suo appartamento. In questo periodo Carrie sta per dedicarsi a un progetto di lavoro importante. Rimarrà in ufficio più ore del solito, anche se la sua casa dista circa 30 minuti dal luogo del lavoro. Siccome il progetto impegnerà Carrie soltanto per una settimana, Dave le propone di trasferirsi in questi giorni nel suo appartamento, proprio per evitare che percorra il lungo tragitto verso casa ogni sera. Carrie accetta e intanto assume una governante che si prenda cura del figlio adolescente Max. La settimana prima dell'avvio del progetto, Carrie riceve numerose richieste di amicizia su Facebook, da sconosciuti. Nel frattempo anche Dave viene bombardato dai messaggi di Liz, nonostante avesse rotto con lei. Ma Liz è insistente, non asseconda mai la volontà dei suoi partner. È vero, i messaggi sono tanti, ma non sono preoccupanti, allora Dave la lascia scrivere e la ignora. Poi, qualche ora più tardi, la macchina di Carrie viene vandalizzata. La donna non ha idea di chi possa averla danneggiata, insomma, non ha problemi con nessuno. Conclude che quello sia stato un attacco casuale. Qualche teppista voleva vandalizzare una macchina e si è sfogato sulla sua. Casualmente. Carrie ha già altre cose per la testa. La settimana da dedicare al nuovo progetto sta per arrivare e lei si sta organizzando per rimanere a casa di Dave. Lunedì 12 novembre, quindi, Carrie si reca a casa di Dave dove passerà la notte. Il giorno seguente, Carrie si alza presto, accede al suo profilo Facebook alle 6 e 41 di mattina. Anche Dave è già sveglio e si sta preparando per andare al lavoro. Saluta Carrie con un bacio prima di uscire. Lei si disconnette dal suo account Facebook e comincia a vestirsi. Ma Carrie, al lavoro non ci arriverà mai. Carrie, che è sempre puntuale, risulta in ritardo e stranamente non ha avvisato i colleghi che non sanno dove si trovi. Intanto, mentre al lavoro, Dave riceve un messaggio inaspettato proprio da Carrie, in cui lei scrive «Credo che noi due dovremmo andare a vivere insieme». Dave, quando leggi questo messaggio, è stupito. Non credeva che lei avrebbe già avanzato una proposta simile. Chissà da dove le era uscita quella affermazione. Insomma, Dave era convinto che lui e Carrie fossero sulla stessa lunghezza d'onda, entrambi disposti a concedere del tempo alla loro conoscenza. Lui voleva impegnarsi a frequentare solo lei, ma non intende compiere un passo così importante. Infatti, al messaggio risponde «Non credo sia una buona idea». Ma nel giro di un paio di minuti, Carrie scrive «Va bene, fottiti, ho già trovato un altro e sto uscendo con lui, tu invece vedi di non contattarmi mai più». Dave, dopo questo scambio di messaggi, si rende conto che Carrie lo ha anche cancellato dagli amici di Facebook. Quando torna a casa dopo il lavoro, lei non c'è e tutte le sue cose sono sparite, anche se avrebbe dovuto rimanere da lui per una settimana. Cosa ancora più strana, Carrie non è tornata neanche a casa sua, a Macedonia, dove c'è suo figlio. Si direbbe che sia sparita. Se non fosse che Dave la sente tramite messaggi. Anzi, da adesso in poi riceverà messaggi ed email da parte di Carrie quotidianamente. I contenuti inviati sono sempre pieni di insulti. Pensate a una parola offensiva da dire a qualcuno? Ecco, vi assicuro che Carrie l'ha scritta a Dave. Quando lui inizia a frequentare altre donne, Carrie gli scrive che le sue nuove fidanzate assomigliano molto a delle puttane. Ma c'è una donna in particolare su cui Carrie concentra la sua rabbia. Litz. Carrie scrive a Dave che Litz è una poco di buono, si chiede cosa ci abbia trovato di buono in lei, ripete che non c'è da fidarsi di una così. Insomma, sembra che Carrie abbia un'ossessione per Litz. Dave, confuso, si chiede cosa diavolo stia succedendo. Lui e Carrie erano usciti insieme per circa due settimane. Quindi, perché quest'ultima è così ossessionata da lui e da Litz? Carrie e Litz, ve lo ricordo, si erano incontrate una volta sola, incrociandosi per due secondi. Quindi, da dove veniva fuori tutto questo astio? Questa frissazione. Da martedì 13 novembre sono passati circa dieci giorni, ma le cose continuano a essere molto strane. Carrie non è ancora stata vista da nessuno, ma sta mandando messaggi a tutti. Anche a sua madre, Nancy. La donna è molto preoccupata per la figlia. È assurdo che Carrie non sia ancora tornata a casa da Max. Oltretutto non riesce più a sentirla tramite chiamate, a udire la sua voce e questo la fa preoccupare ancora di più. Può soltanto leggere i suoi spiazzanti messaggi in cui Carrie scrive che si sarebbe trasferita in Kansas perché aveva trovato un nuovo lavoro. Nancy, in credula, decide di parlarne con il nipote. Cos'è questa storia del Kansas? Max, però, conferma alla nonna che Carrie stava cercando lavoro in Kansas. Magari l'aveva trovato davvero. Nancy a questo punto un po' si tranquillizza, ma in fondo sente che c'è proprio qualcosa che non va. I messaggi, anche se arrivano dal cellulare di Carrie, non sembrano scritti da lei, pure perché sono pieni di errori di ortografia e grammaticali. Carrie non scrive così, anzi è molto pignola con la grammatica, si sente qualcuno che parla male, è solita correggerlo. Nancy dunque si convince che chiunque le stia mandando quei messaggi non è sua figlia. Dopo dieci giorni denuncia finalmente la scomparsa di Carrie alla polizia, che va immediatamente a parlare con Dave, l'ultima persona che ha visto Carrie con i suoi occhi di persona. Dave ribatte sconcertato. Che vuol dire che è scomparsa? E io sono stato l'ultimo a vederla? Mi manda messaggi più volte al giorno, mi sta molestando, perseguitando e minacciando, voi dovete fare qualcosa a riguardo. Lei non è una persona scomparsa, mi sta davvero importunando. A questo punto, che succede? Dave riceve un messaggio da Liz, la quale lo informa che Carrie la sta perseguitando. In qualche modo è riuscita a trovare il suo numero di cellulare e le invia messaggi in continuazione esattamente come sta succedendo a Dave. Liz gli spiega che Carrie la insulta, che la minaccia scrivendole stai lontana dal mio uomo, ti manderò all'inferno, farò del male a te e ai tuoi figli. Insomma, tutto ciò è davvero assurdo, perché Carrie dovrebbe minacciare di far del male ai figli di Liz? Perché accanirsi contro una donna che ha intravisto per due secondi? Non avrebbe senso, no? La situazione degenera ancora quando una mattina Liz si sveglia, va nel suo garage e sul muro legge una scritta, una dedica poco gentile, comprensiva di firma, ovvero puttana, da Dave. Ma Liz sa perfettamente chi è che ha impresso sulla parete quelle parole, certamente Carrie, la donna che la sta perseguitando e molestando. Liz denuncia il fatto alla polizia e Dave si sente addirittura in colpa nei suoi confronti perché Carrie, la donna che aveva conosciuto lui, sta perseguitando entrambi. Dave dice a Liz che è dispiaciuto per averla coinvolta in questo casino. Così le due vittime di stalking legano di nuovo e alla fine si rimettono insieme. Passano diverse settimane ma la situazione non cambia, anzi, se possibile, continua a peggiorare. Carrie non si vede ancora da nessuna parte ma Dave ormai riceve almeno 60 messaggi al giorno e più di un centinaio di email da lei. Dave a questo punto si stufa e cambia il numero di telefono. Ma Carrie riesce sempre a rintracciarlo. Ora nei messaggi scrive parole di risentimento e non solo come Ti odio, tu hai rovinato la mia vita. O ancora, voglio piantarti un coltello nel cuore. Ma poi cambia umore e scrive La cosa che amo di più è sedermi e guardarti. Quindi Carrie è ancora nei paraggi? In un'occasione Dave riceve un messaggio con scritto Ti vedo, hai i piedi sollevati e stai indossando una maglia blu. Il che è vero, in quel momento Dave è seduto con i piedi poggiati su un'altra sedia e ha addosso una maglia blu. L'uomo inizia a preoccuparsi seriamente e comprensibilmente spaventato. Nel frattempo anche Liz sta ricevendo un sacco di sms ed email ogni giorno. Nei messaggi inviati a lei c'è scritto Tieni giù le mani dal mio uomo. Tieni lontane le labbra dal mio uomo. O ancora, non avvicinarti a Dave. Ti farò del male. Oppure, fa un favore a tutti. Ucciditi. In alcuni momenti, mentre Liz e Dave si trovano nell'appartamento di lui entrambi i loro telefoni iniziano a ricevere una marea di sms minacciosi contemporaneamente. La condivisione degli stessi stati d'animo li porta a legarsi ancora di più. Inoltre Cari arriva a creare un necrologio per Liz e le invia il link per permetterle di vederlo chiaramente. Tra i commenti ne spicca proprio uno sotto di Cari con scritto Oh, non lo sapevo. Spero che ora stia bene. Tranne per il fatto che era una puttana e una ladra di uomini. Grazie a Dio se n'è andata. A questo punto Liz e Dave concordano che la situazione sta davvero diventando insostenibile. Quindi vanno insieme dalla polizia. Gli agenti li ascoltano con attenzione tuttavia non sono riusciti in alcun modo a individuare Cari. Ogni volta che la polizia cerca di rintracciare il cellulare di Cari la posizione cambia in continuazione troppo velocemente. Gli agenti presumono che siccome la donna è una programmatrice informatica sappia come coprire le sue tracce riuscendo a far rimbalzare la propria posizione su diversi ripetitori telefonici contemporaneamente. Il tempo passa, le settimane si trasformano in mesi e la famiglia di Cari è sempre più preoccupata perché non l'ha ancora vista. Cari non si presenta neanche ad alcuni eventi piuttosto importanti per i suoi cari. Non è tornata a casa per il proprio compleanno né per quello di suo figlio Max. Si è persa il baby shower della sua migliore amica e anche il matrimonio di suo fratello. La mamma di Cari, Nancy, continua a mandarle dei messaggi che ho scritto per favore telefonami o ancora per favore dimmi cosa sta succedendo. Cari però ogni volta le risponde lasciami in pace. Nancy desidera almeno sentire la voce di chi le scrive perché continua a sospettare che non si tratti di sua figlia. Presto si verifica un evento ancora più triste e allarmante. Il padre di Cari ha il cancro, è debilitato e la figlia sapeva della sua malattia. Lo andava a trovare e si prendeva cura di lui molto spesso ma ora le condizioni dell'uomo peggiorano così tanto che purtroppo viene a mancare. E Cari non va neanche al suo funerale. Per Nancy questa è la goccia che fa traboccare il vaso la donna non ce la fa più quindi torna dalla polizia e la prega di rintracciare sua figlia. Ma la polizia, sapendo che a Cari era stato diagnosticato un disturbo bipolare, non accoglie la richiesta di una madre disperata. Gli agenti a questo punto le rispondono che probabilmente Cari aveva smesso di prendere le sue medicine e quindi aveva avuto un crollo psicotico e si era allontanata di sua spontanea volontà. Per loro il caso è chiuso. Nancy è furiosa perché sa che Cari non si sarebbe mai comportata in questo modo. Mai! Quando Max, il figlio di Cari, le manda un messaggio privato su Facebook scrivendole semplicemente Ciao Cari risponde immediatamente Ciao Ometto, come stai? Una risposta strana visto che Cari non ha mai chiamato Max Ometto prima d'ora. Max quindi le scrive comunicandole che ha tre domande per lei. Qual è il suo secondo nome? Qual era il nome del loro primo cane? Qual è il nome del suo migliore amico? Cari avrebbe saputo rispondere a queste domande. Invece chi usa il suo profilo smette di scrivere. Anche Max quindi afferma che qualcuno si sta spacciando per sua madre ma la polizia non dà ascolto a nessun membro della famiglia. Ha smesso di indagare quando ha scoperto che a Cari era stato diagnosticato il disturbo bipolare. Nel frattempo altri mesi passano. Dave e Liz continuano a stare insieme, a ricevere messaggi di mail da Cari ma poi Dave decide di allontanarsi da tutta questa situazione o almeno ci prova. anzi vuole interrompere la relazione con Liz che continua a essere molto pesante, appiccicosa e possessiva. Quindi Dave va da Liz per lasciarla ma ogni volta che prova a farle un discorso di rottura succede sempre qualcosa di strano ovvero gli abusi di Cari si intensificano. Una sera però Dave si impone, non ce la fa più e dice a Liz che davvero non vuole continuare a frequentarla. Basta. Subito dopo Dave inizia a ricevere dei messaggi da Cari la quale gli scrive che è incinta di suo figlio. Questo è impossibile perché i due non avevano ancora avuto un rapporto intimo. Dunque Dave va completamente fuori di testa e torna di corsa da Liz per raccontarle tutto. In un'altra occasione quando Dave riprova a rompere con Liz Cari inizia a postare su Facebook degli stati in cui sostiene che Dave le ha chiesto di sposarla. pubblica addirittura delle foto della sua mano con un anello al dito ma c'è qualcosa di strano perché quella che appare nelle foto non è la mano di Cari. Ciò nonostante Dave è spaventato e torna di corsa da Liz perché lei può capirlo. In un'altra circostanza in cui Dave ritenta di lasciare Liz impresa che fallisce un po' troppo spesso fino a risultare inquietante lui riceve un messaggio da Cari con annessa fotografia. Preparatevi. Nella foto si vede una donna con i cappelli scuri legata nel bagagliaio di un'auto e con del nastro adesivo sulla bocca. La didascalia della foto riporta queste parole Guarda ho Liz legata nella mia macchina e adesso la ucciderò. Dave va completamente nel panico non sa di cosa sia capace Cari e la donna nella foto sembra proprio Liz. Terrorizzato quindi Dave chiama Liz lei risponde e lui le chiede se stia bene e se sia al sicuro. Liz gli risponde di sì è tutto ok ma perché le aveva fatto questa domanda? Qualcosa non andava? Quindi Dave le spiega cosa gli aveva mostrato e scritto Cari poi torna di corsa da Liz di nuovo. Tuttavia queste strane uscite di Cari non si verificano solo quando Dave prova a lasciare Liz ma anche quando lui esce o parla con un'altra donna. Ad esempio un giorno Dave riceve una richiesta di amicizia da una ragazza e inizia a chattare con lei Un'ora dopo aver accettato la richiesta Dave viene sommerso dai messaggi offensivi scritti da Cari ma non solo Cari invia messaggi di insulti anche alla donna in questione Insomma Cari sta cercando di spaventare qualsiasi altra donna si avvicini a quello che lei definisce il suo uomo Questo accade non solo quando Dave usa Facebook ma anche quando naviga sui siti di incontri Ogni volta che Dave prova a fissare un appuntamento con un'altra donna Cari inizia a mandare messaggi offensivi sia a lui che alla ragazza con cui è in programma di uscire per spaventarla Un giorno Cari invia addirittura un messaggio a una donna che aveva parlato mezza volta con Dave dicendole che avrebbe tagliato la gola a suo figlio Queste situazioni si verificano di continuo e sono davvero frustranti stressanti Le moleque dello stalking come detto aumentano sempre quando Dave lascia Liz o prova a uscire con un'altra donna Arriviamo quindi all'inizio del 2013 Cari è scomparso da diversi mesi ma avvengono degli sviluppi importanti Prima di tutto l'auto della donna viene localizzata spunta all'improvviso davanti all'appartamento di Dave L'uomo lo riferisce alla polizia più che altro perché è spaventato quindi gli agenti prelevano l'auto la perquisiscono ma non trovano nulla di significativo a parte un'implonda digitale che non si sa chi appartenga sicuramente non ne ha a Cari né a nessun altro presente nel loro database Inoltre non sono presenti telecamere a circuito chiuso che mostrino chi abbia parcheggiato la macchina lì questo è un bel problemino Poi Nancy riceve uno strano messaggio da Cari in cui scrive di aver venduto tutti i mobili di casa sua e le chiede di far entrare l'acquirente nell'abitazione per ritirarli come presunta prova della vendita c'è anche la foto di un assegno intestato a Cari e firmato da una donna di nome Shanna Golia che se ricordate è il vero nome completo di Liz Shanna Elizabeth Golia Dopodiché Nancy riceve una telefonata da qualcuno con una voce nervosa distorta che afferma di essere Dave e di sapere dove sia Cari Non è scomparsa si trova in un rifugio per senza tetto Nancy è tanto preoccupata e gli risponde Oh mio Dio Cos'è successo? Perché è finita lì? Lui dice che non ne ha idea ma le dà l'indirizzo del rifugio Tuttavia indovinate quando Nancy vi si reca sua figlia non c'è Nancy a questo punto davvero non ce la fa più Cosa diavolo sta succedendo? Ha tante troppe domande Tra l'altro che accidenti è questa Shanna che ha firmato l'assegno? E chi le ha telefonato fingendo di essere Dave? Nell'estate del 2013 nove mesi dopo la scomparsa di Cari Liz e Dave litigano pesantemente come mai prima d'ora si insultano senza freni e Dave la molla ancora una volta Ormai sapete cosa accade quando Dave e Liz si lasciano quindi preparatevi Il 17 agosto del 2013 Liz chiama i servizi di emergenza e dice che la sua casa sta andando a fuoco Completamente né Liz né i suoi figli sono nell'abitazione ma i suoi quattro animali domestici sì due cani un gatto e un serpente hanno perso la vita Liz denuncia il fatto alla polizia e dice che sa esattamente chi è la responsabile dell'incendio Cari La donna infatti aveva inviato a Liz un email il giorno prima scrivendole Credo che brucerò la tua casa mentre tu e i tuoi bambini siete all'interno Liz sembra fuori di sé terrorizzata e disperata la sua casa è ridotta in cenere ha perso i suoi amati animali e anche tutti i suoi averi così che fa Corri immediatamente da Dave per farsi consolare lui l'accoglie a braccia aperte perché si sente davvero dispiaciuto di nuovo Dave e Liz tornano insieme lui ha i nervi a fior di pelle è spaventato da quello che è successo a Liz teme che Cari possa bruciare anche il suo appartamento inizia a darsi all'alcol in modo assiduo e compra una pistola per proteggersi nel frattempo la polizia conferma che l'incendio a casa di Liz è stato davvero orribile che la sospettata numero uno è Cari ma nessuno ha ancora idea di dove sia dopo l'incendio Liz ovviamente ha bisogno di trovare un altro posto in cui vivere è tornata con Dave ma lui non vuole che Liz e la sua prole vadano a vivere con lui quindi secondo voi a chi si rivolge? beh a Garrett non vi ricordate più chi è ne sono certa sarebbe il fidanzato di Liz vi dice nulla? quello che frequentava fin da prima di conoscere Dave che voleva una relazione più stabile esclusiva con lei ecco Liz ci sta ancora assieme ormai da circa tre anni non ci crederete ma Garrett non sa assolutamente niente di Dave né di Cari la molestia dice Liz è riuscita a tenerlo all'oscuro di tutto quando Liz gli chiede ospitalità lui non può certo rifiutare anche perché è convinto che Liz sia la sua fidanzata quella con cui condivide una relazione impegnativa e bellissima Garrett la ama tanto ed è anche molto affezionato ai suoi figli tuttavia Liz lo sfrutta soltanto infatti quando va a vivere da lui si rifiuta persino di dormirci insieme Liz di propria iniziativa ricrea il suo piccolo appartamento nel seminterrato si approfitta dell'ospitalità di Garrett non fa mai le polizie non contribuisce al pagamento né alle spese di casa né alle bollette smette anche di andare a lavorare le dinamiche su cui ha strutturato le sue relazioni non cambiano molto Liz continua a stare anche insieme a Dave e ogni volta che lui si allontana Cari riappare e Dave poveraccio nel frattempo sta letteralmente perdendo la testa per via di questa storia continua a cambiare numero poi addirittura lavoro ma ogni volta Cari lo rintraccia e lui non si spiega come riesca a farlo il tempo intanto scorre passano il 2014 e il 2015 ma di Cari ancora non c'è alcuna traccia dopo due anni la famiglia della donna continua a non avere idea di dove sia è nella primavera del 2015 che la polizia decide di riaprire il caso per tentare di trovare finalmente Cari i detective riesaminano tutte le prove raccolte negli anni e analizzano il caso in due modi diversi un detective lo studia partendo dal presupposto che Cari sia ancora viva un altro detective lo approfondisce considerando che Cari sia morta i due investigatori si rendono conto che c'è un nome che spunta fuori ripetutamente ossia quello di Liz Golia la donna si è lamentata più volte del fatto che Cari la perseguiti e la molesti leggono meglio tutte le denunce di Liz ci riflettono su e concludono che troppe cose non hanno senso insomma perché mai Cari dovrebbe perseguitare e molesti una donna che ha intravisto per due secondi adesso i detective vogliono tenere d'occhio Liz quando Liz aveva sporto denuncia contro Cari la polizia aveva acquisito il contenuto del suo telefono in quanto vittima delle mole non lo aveva mai esaminato in modo approfondito appunto perché Liz non era la sospettata in questa nuova ottica tale contenuto viene visionato con maggiore attenzione ed emergono parecchie cose sospette prima di tutto gli investigatori trovano una foto della macchina di Cari scattata prima che la polizia la individuasse come mai Liz ha sul cellulare una foto dell'auto di Cari quindi sapeva pure dove si trovava il veicolo inoltre notano anche numerose email che Cari aveva mandato a Dave e non in particolare è allegata la foto di Liz intrappolata nel bagagliaio di una macchina quando controllano i metadati di quella foto gli agenti si rendono conto che era stata scattata proprio dal cellulare di Liz Liz intanto sta vivendo un periodo non proprio facile Dave l'ha lasciata di nuovo e ha deciso di cambiare casa per vivere più vicino ai suoi figli dunque vedrà più spesso anche la sua ex Amy Liz però non ci sta decide che Amy deve sparire dalle loro vite così va alla polizia e dice che in realtà non aveva ricevuto messaggi minacciosi da Cari bensì da Amy mostra numerose email e sostiene che Amy abbia finto di essere Cari per tutto il tempo era sempre stata Amy l'autrice di quei contenuti minacciosi e violenti inviati a Dave e a Liz lei ne è sicura al 100% la polizia giustamente le chiede come faccia a esserne così convinta Liz non risponde nel merito in realtà ma aggiunge che Amy è molto pericolosa è necessario che la arrestino subito il giorno successivo la polizia riceve una chiamata al 911 da Liz la quale dice che le hanno sparato spiega che stava passeggiando nel parco da sola quando una donna le si è avvicinata alle spalle e le ha sparato a una gamba e sa esattamente chi è la colpevole Amy la polizia dunque a questo punto va a casa di Amy e tutti gli agenti sono armati perché pensano che sia davvero pericolosa la arrestano ma poi scoprono che ha un alibi solido è innocente di conseguenza la lasciano andare l'indagine su Liz invece a questo punto continua e ora la polizia è convinta che si sia sparata la gamba da sola quindi se Liz è capace di spararsi da sola pur di incolpare chi vuole probabilmente è anche in grado di ammazzare qualcuno arriva finalmente la fatidica domanda e se avesse ucciso Kari? beh è proprio ora che gli investigatori si trovano davanti a un colpo di scena sconvolgente penso che voi l'abbiate già intuito ma ora vi spiego Kari non aveva mai perseguitato o morato nessuno e non aveva nemmeno appiccato il fuoco a casa di Liz oh no 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 è stata Liz a incendiare la propria abitazione scegliendo pure di condannare i suoi poveri animali a una orribile fine ma perché Liz ha bruciato la sua stessa casa? ebbene immagino che lo abbiate intuito perché Liz agisce come se fosse Kari dal momento in cui Kari è scomparsa Liz ha finto di essere lei Liz aveva inviato tutti quei messaggi minatori a se stessa e a Dave Liz aveva contattato la mamma di Kari Nancy Liz aveva risposto ai messaggi su Facebook del figlio di Kari Max Liz aveva persino creato il necrologio per se stessa parliamo poi della foto che ritraeva quella donna chiusa nel bagagliaio della macchina beh quella era davvero Liz si era legata da sola si era infilata nel bagagliaio della sua auto e poi si era scatata una foto usando l'autoscatto ecco perché ogni volta che Dave provava a lasciare Liz Kari tornava alla carica con messaggi sempre più pesanti e atti sempre più gravi contro di lei erano tutti tentativi di impietosirlo tentativi andati a segno tra l'altro ed ecco perché Kari riusciva ogni volta a scoprire il nuovo numero di telefono di Dave era Liz a esserne sempre al corrente fingere di essere Kari per Liz era un lavoro a tempo pieno passava dalle 50 alle 60 ore a settimana a inviare in email e messaggi mostri era stata lei a chiamare Nancy con la voce distorta presentandosi come Dave ma Liz doveva assicurarsi che Dave non potesse mai sospettare che dietro quegli attacchi ci fosse lei ricordate che mentre Liz e Dave erano insieme ricevevano contemporaneamente messaggi da parte di Kari anche per questo c'è una spiegazione più che plausibile Liz si anticipava scriveva prima i messaggi e riusciva a programmare l'orario in cui farli partire grazie a un particolare software così sarebbero arrivati sul suo telefono e su quello di Dave in un secondo momento mentre i due erano insieme ed ecco che a Dave non sarebbero mai venuti dei sospetti sull'identità della mole lice l'obiettivo di Liz era uno solo tenere vicino Dave non farsi mollare vi rendete conto fin dove si è spinta l'ossessione di questa donna anche se gli investigatori sospettano di tutto quanto vi ho detto hanno bisogno di prove concrete per accusare Liz chiaramente inoltre ancora non sanno che fine abbia fatto Carrie ma il giorno successivo è proprio Liz a rivelarlo va di nuovo alla stazione di polizia e dice ai detective che Amy l'aveva uccisa esatto Liz sta cercando di incolpare Amy per l'omicidio di Carrie la polizia ormai ha capito i suoi giochetti ma decide di assecondarla immaginando che lei possa inciampare nella sua recita assurda tradendo le proprie parole i detective sono fiduciosi che alla fine tutti i nodi verranno al pettine gli investigatori tanto per cominciare chiedono esplicitamente a Dave di trasferirsi da Amy sperando che questa mossa faccia andare in tilt Liz vogliono portarla a commettere un errore che involontariamente fornisca alla polizia la prova della sua colpevolezza quando Dave si trasferisce da Amy Liz impazzisce e fa numerose chiamate alla polizia in cui comunica il fatto sostenendo che Dave sia in pericolo di vita la polizia allora chiede a Liz la sua collaborazione per catturare Amy deve consegnare agli agenti il suo telefono così loro potranno leggere i messaggi minacciosi che Amy li ha inviato e catturarla Liz davanti a questa prospettiva non capisce più niente e consegna il telefono senza pensarci ma adesso la polizia può liberamente analizzarlo esaminando sia i contenuti aggiornati che i file cancellati i detective quindi recuperano tutto il materiale foto email messaggi trovano una moltitudine di prove a conferma di ogni loro sospetto Liz ha finto di essere cari per tutto il tempo ma cosa è successo cari la polizia torna da Liz per chiederle di nuovo aiuto deve convincere Amy a confessare gli investigatori sperano che Liz invii un'email a se stessa fingendosi Amy e confessando l'omicidio di cari in questo modo sarebbe emerso cosa era accaduto alla donna Liz non delude le aspettative dei detective il loro piano funziona il giorno dopo la donna entra nella centrale di polizia esclamando l'ho fatta confessare Amy ha confessato di aver ucciso cari nell'email con la dichiarazione di colpevolezza Amy che chiaramente è sempre Liz scrive che il 13 novembre 2012 era entrata nell'appartamento di Dave dove aveva trovato cari e tra le due era scoppiata un'accesa discussione in seguito Amy aveva costretto cari a salire sulla sua macchina la macchina di cari per poi pugnalarla cari era stata colpita tre o quattro volte al petto e allo stomaco poi Amy aveva preso il suo corpo l'aveva smembrato bruciato e buttato in alcuni sacchi della spazzatura la polizia scopre così quale fine aveva fatto cari era stata uccisa da Liz quella mattina agganciata mentre era rimasta sola nell'appartamento di Dave in procinto di recarsi a lavoro Dave che l'aveva salutata poco prima per andare in officina si aspettava di rivederla alla fine della giornata ma cari non era mai tornata la polizia vorrebbe arrestare Liz immediatamente ma non ha ancora raccolto prove abbastanza solide è in possesso di prove circostanziali di un'email che non rappresenta una prova concreta ma che suggerisce la pista giusta nell'email infatti la finta Amy rivela che cari era stata uccisa nella sua macchina quindi la polizia la perquisisce di nuovo più a fondo rimuove il tessuto dal sedile del passeggero dove cari sarebbe stata colpita e così la vede un'enorme macchia di sangue ecco la conferma che cari aveva perso la vita in quella macchina finalmente la polizia ha delle prove fisiche e concrete inoltre gli investigatori scoprono che la misteriosa impronta digitale già trovata nell'auto di cari corrisponde proprio a Liz i detettivi ora vanno a casa di garret come vi ho detto Liz vive lì e perquisiscono il seminterrato trovano così tutti i dispositivi elettronici che Liz ha utilizzato per mettere in atto la sua persecuzione veri serbatoi di prove messaggi foto e mail Liz è stata piuttosto astuta perché ha camuffato il suo indirizzo IP ha usato una vpn per mascherare la propria posizione tuttavia la polizia riesce a recuperare tutti i file cancellati tra questi file emerge una foto del piede di cari riconoscibile dal tatuaggio che la donna aveva il piede è fotografato in avanzato stato di decomposizione quindi rappresenta un'altra prova fisica concreta per dimostrare che Liz ha ucciso cari finalmente dopo un anno della riapertura delle indagini sussistono abbastanza prove per arrestare Liz Golia per l'omicidio di cari quattro anni dopo la sua scomparsa dopo l'arresto Liz viene interrogata e anche se nega tutto le prove a suo carico sono tante ed evidenti dunque la polizia l'accusa dell'omicidio di cari Liz viene processata nel 2017 e di nuovo si dichiara non colpevole la difesa ribatte sul fatto che il corpo di cari non è mai stato trovato quindi quello non può configurarsi come un caso di omicidio ma pur in assenza del cadavere l'accusa ha in possesso una moltitudine di prove valide Liz fortunatamente viene dichiarata colpevole di omicidio di primo grado e condannata all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale le vengono inoltre assegnati ulteriori vent'anni di pena per chi aveva bruciato la sua stessa casa Liz quindi si trova tuttora dietro le sbarre e continua a sostenere la propria innocenza detto questo ho finito di parlare in questo video sul mio canale lo sapete vi ho raccontato parecchi casi di questo tipo e quest'ultimo per le dinamiche che lo caratterizzano mi ricorda quello di Carol Maltesi ma nella storia di Liz è molto più alto il livello di follia di ossessione Liz non soltanto ha ucciso una donna innocente che aveva dei genitori un figlio un futuro brillante ma è riuscita a perpetuare la sua pietosa recita per anni ha portato Dave all'esasperazione causandogli un crollo nervoso tutto questo perché non voleva che lui la lasciasse è assurdo è assurdo Liz è arrivata a incendiare la propria casa affierendo letalmente e consapevolmente i suoi animali domestici santo cielo tutto con la speranza che Dave la invitasse a vivere da lui obiettivo tra l'altro non raggiunto Liz è stata capace di spararsi a una gamba da sola trovo che questo caso possa raschiare i verdici della follia e mi amareggia che la polizia non lo abbia affrontato seriamente dal primo momento questa è la parte che più mi fa arrabbiare non si può non si può smettere di indagare su una donna scomparsa soltanto perché si scopre che le era stato diagnosticato un disturbo bipolare è stato profondamente ingiusto anche perché Cari non si era mai allontanata da un giorno all'altro senza dare spiegazioni nemmeno in passato quando era inconsapevole del suo disturbo e quindi non lo curava aveva un figlio di 14 anni che amava più della sua stessa vita non lo avrebbe mai abbandonato perché la polizia non ha dato peso alle parole di Nancy la mamma di Cari per carità non sto dicendo che i genitori abbiano sempre ragione e possano arrivare a conoscere i loro figli al 100% perché magari i figli non vogliono condividere tutto tutto con loro e ci sta è una cosa normale ma la polizia non può trattare con sufficienza una madre che chiede aiuto perché la figlia è sparita misteriosamente la polizia deve ha il compito di indagare Cari è risultata come una persona scomparsa per anni invece era stata uccisa e nessuno si è preoccupato mai di cercarla davvero non è sospetto che una donna scriva i vi 60 messaggi aggressivi al giorno a diverse persone senza che mai nessuno la veda anche se lei è persino in grado di descrivere come è vestito e cosa sta facendo l'uomo che la contatta per me queste sono le conclusioni sul caso la polizia almeno all'inizio ha peccato di superficialità benché Cari ormai non fosse più in vita avrebbe avuto giustizia prima e la sua famiglia non sarebbe stata consumata dall'angoscia del dubbio per anni questo è quello che penso di questo caso la polizia non ha fatto a dovere il suo lavoro doveva prendere molto più sul serio questa situazione e indagare molto molto meglio detto questo voi invece che cosa ne pensate cosa ne pensate del comportamento della polizia cosa ne pensate della folle lizz folle folle proprio fuori di melone totale questo era fuori come gli agricoltori quando raccolgono i pomodori completamente quindi sono curiosa di sapere quale sia la vostra opinione come al solito ci becchiamo qui sotto nei commenti io nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.